Ciao amici, sapete una cosa? Tante persone dicono che i mostri esistono e che sono esseri assolutamente spaventosi, che terrorizzano tutti! Ma volete sapere tutto? La verità è che nessuno ha mai visto un mostro in vita sua. Dovete credermi, amici, nemmeno uno, tranne un ragazzino. Ora vi racconto la sua storia. Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un destino! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un sottomarino! Incredibile, hanno risolto... Però manca qualcosa! Cos'è che manca ancora? I nostri eroi sono battuti, forse il cattivo si salverà. Ma voi restate ancora seduti.